Ciao Gaia, Giorgia e Marta. Che cosa è? Boh, mi hanno detto di salutarle, che carina. Mi sono incatti l'ombrellone. Ma che tempo? C'è caduto l'ombrellone, aspetta. Tutta a razza chiosa. Guarda che ha scritto. Solo o meno. Aia. Io non l'ho portata, te lo dico. Vabbè, ma io non mi ammè. Non c'è. Sottieni il telefono, ragazzi. Sì, vedi tu. Ma no, come sono diventati i commenti? Sottieni l'aria, guarda. Perché sono così? Che è successo? Ok. Guarda che capelli ho. Sì, ma sta cosa però non lo possiamo lasciare qua. Ah, madonna, chi si spassa? Che vuol dire? Non lo dire, perché non lo so. Guarda, non fa male. Non lo so. Non lo so. Ti 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 Grazie a tutti.